se mi metti una mano qua dentro, apro e spacco, cioè non esiste, siamo qua mi prendo, io ho la possibilità, uno, due, apro, come apro, ti spacco, da qua posso fare quello che abbiamo fatto prima, pugni, due, tre, entro, spacco, prendo i capelli, testate, cioè non c'è una regola, se tu hai capelli, non posso, ma se tu hai capelli lunghi, capito, non c'è problema, cioè, basta il mio pane, mi spingi, è il mio pane, faccio, sto mica peggiato, è riuscito a fare la tua stessa, sì, però, vieni, cosa ti vieni da fare, faccio così, ma lo puoi, prendi una mano dall'imperato, no, no, però automaticamente, guarda, guarda, stanno zero, già questo è sbagliato, se li prendi, capito, fai prendermi veloce, più veloce, più veloce, bam, quando, cioè, lo sbaglio qual è, la distanza, cioè, si fa, oh, porca puttana, vieni, prendi, se tu, prendi, basta, sono morto, già questa bomba, qui va, cioè, non c'è tempo di fare tante cose, non c'è tempo, puoi fare questo, però, entri, però, non c'è il tempo, non c'è tempo, non c'è tempo, è capito, allora, se tu non ti accorgi, vai, subito, dentro, copri, non è rispetto a me, non è rispetto a me, non c'è tempo, sì, però, fai pacienza, capito, cioè, non si può pretendere, capito, subito, prendi, è già tardi, capito, se hai le gambe larghe, ma ci vuole la schiglia una volta, la reazione, prendi, 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 cioè, però, mi resta rimediato, cioè, tu mi prendi, boom, boom, se io dormo, tu mi prendi, scopri, prendi, 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 vuoi dire così le gambe, non c'è tempo, ma è sempre così, è sempre più facile.